Musica Cari amici di Angoli, ben ritrovati, innanzitutto una buonissima serata a tutti voi e grazie per essere come sempre qui in mia compagnia anche questa sera inizio ricordandovi il nostro indirizzo di posta continuate a scrivere ad Angoli Chiocciola, estensionetv.it per restare sempre in contatto con la redazione e da subito vi ricordo anche che le nostre linee telefoniche sono ovviamente a vostra disposizione basterà comporre lo 031 330 06 55 oppure inviare un messaggio whatsapp al 335 70 84 396 prima di iniziare il nostro tempo insieme condividendolo con gli ospiti di questa serata vi ricordo invece che la nostra rubrica di benessere mi alleno in salotto dal lunedì 4 maggio cambia l'orario dell'appuntamento con tutti voi quindi dal lunedì 4 maggio come ho detto il primo appuntamento sarà alle 7 del mattino e poi non mancherà ovviamente l'appuntamento nel pomeriggio che rimane fissato per le 18 quindi mi alleno in salotto dal lunedì 4 maggio alle 7 del mattino e alle 18 del pomeriggio bene ricordato questo è arrivato il momento di vedere chi è con noi in questa prima parte della serata io ritrovo con grandissimo piacere Arianna Augustoni ciao Arianna ben ritrovata grazie ciao allora io dico davvero con grandissimo piacere perché tu insomma ti sei impegnata tantissimo in un progetto che ha fatto tantissima strada dalla prima volta che sei venuta a parlarne qui ad Angoli e proprio in questo momento così particolare in questa emergenza coronavirus durante la quale uno dei tanti consigli e dei modi per passare il tempo è proprio quello di cucinare esce un must have in un certo senso è vero? sì di cosa si tratta? una esperienza molto dolce siamo con cucinare al fresco dolci evasioni ecco qua esattamente una bellissima raccolta con un formato nuovo perché è quadrato 52 pagine e una sessantina di ricette fatte dai miei ragazzi che come al solito si sono impegnati tantissimo e che anzi questa volta hanno dato molto di più perché con il blocco degli accessi in carcere si sono autogestiti e mi hanno passato tutto il materiale pronto per essere impaginato ed essere stampato e proprio questo Arianna vorrei che tu ricordassi bene per chi in qualche maniera magari non fosse stato presente agli appuntamenti precedenti l'ultimo per esempio nel periodo di Natale dove sei stata qui in studio a presentare appunto un'edizione speciale natalizia perché queste ricette al di là dell'essere squisite hanno però una particolarità che sono state proposte da ragazzi e da ragazze insomma da uomini e donne che si trovano in una situazione particolare quale? sì questi sono laboratori che sto facendo all'interno di alcune carceri lombarde ma che abbracciano tutto il sistema carcerario nazionale perché abbiamo avuto il contributo di altri detenuti di altre strutture che non appartengono ai gruppi che abbiamo costituito è un lavoro che facciamo all'interno del carcere con dei gruppi di detenuti e di detenute che portano il loro contributo per realizzare appunto dei ricettari monotematici o comunque stagionali la cosa molto bella è che ovviamente nelle fasi precedenti come tu hai già detto hai già accennato poco fa c'era un'interazione diretta anche all'interno delle carceri invece da che appunto è iniziata l'emergenza ovviamente anche gli accessi sono stati completamente bloccati e quindi c'è stato un lavoro là all'interno di raccolta delle ricette di preparazione che poi sono state inviate a te e ad altri tuoi colleghi come è andata quindi questa fase insomma interattiva? ero molto preoccupata perché avevamo già fatto un buon lavoro eravamo quasi pronti a chiudere il ricettario ed è arrivato questa tegola che dice no non puoi più entrare in carcere per cui si è bloccato tutto il lavoro e ci chiedevamo come potessimo riuscire a portarlo a termine con molta diligenza e con grande collaborazione da parte del personale della polizia penitenziaria siamo riusciti a coordinarci per raccogliere il materiale per farlo uscire dalla struttura per darlo ad Alessandra e Giuseppe che sono i due grafici e realizzare quello che è il prodotto finale che vi garantisco è molto molto carino questo tra l'altro io l'ho sfogliato l'ho sfogliato perché tu me l'hai appunto inviato ma ognuno insomma chiunque lo può sfogliare perché se non sbaglio correggimi se non fosse così è scaricabile dalla pagina Facebook è vero? Sì perché a questo punto noi abbiamo mandato in stampa al lavoro ci hanno consegnato le copie però non possono essere vendute in libreria la Ubic non ce le può vendere allora abbiamo deciso di comune accordo con tutti i detenuti di postarlo nella nostra pagina Facebook appunto Cucinare al Fresco e scaricarlo direttamente per poter avere qualche idea sotto mano tra l'altro un altro aspetto importante che è proprio legato a ciò che hai spiegato molto bene è che nelle precedenti edizioni appunto alcune librerie vi hanno ovviamente dato una mano per mettere a disposizione del pubblico i precedenti ricettari precisando che tutto il ricavato ovviamente era destinato alla continuità di questo bellissimo progetto in questo caso non potendo usufruire di tutto ciò so che però c'è stata comunque una partecipazione nel sostenere il progetto altrettanto importante è vero? Questa pubblicazione è stata sposata e finanziata dalla Camera Penale di Comolecco e il Presidente, l'Avvocato Paci e il Tesoriere Simone Gilardi appena hanno avuto indicazioni per poter partecipare effettivamente hanno contribuito non solo, hanno già mandato a tutti i loro iscritti una mail con il nostro ricettario e hanno fatto tutti i complimenti per il contenuto Senti Arianna, mi risulta anche che abbiano partecipato ovviamente con le loro ricette più amate e sperimentate all'interno dei carceri ovviamente chi lì si trova ma anche qualcuno che invece strada facendo è uscito da questa condizione ma ha voluto comunque essere presente, è successo, è così? È successo così perché qualcuno è stato rimesso in libertà ha chiesto di poter entrare come follower nella nostra pagina Facebook e adesso è uno di quelli che commenta le varie ricette e dà suggerimenti io posso chiederti una cosa perché stasera ci stanno guardando le ragazze di Bollate Bene! e altre detenute che adesso hanno lasciato l'istituto e sono all'esterno per cui ci tengo tantissimo a salutare Margherita e Agatha che proprio oggi mi hanno scritto dicendomi stasera alle 7 saremo davanti alla televisione Bene! Le saluto anch'io naturalmente un grande abbraccio virtuale ma in questo momento è così, è tutto virtuale poi chissà magari in una prossima occasione, in una prossima edizione Arianna tornerai qui nello studio magari portandoti qualcuno insomma perché sai a me piace raccontare anche gli aneddoti, quello che succede e a tal proposito allora voglio anche chiederti questo perché è sempre prezioso il racconto poi di ciò che accade durante lo svolgimento di queste esperienze quindi c'è qualche cosa di simpatico che vuoi raccontare che è accaduto proprio nell'interazione di tutti coloro che a tutti i costi hanno voluto essere presenti in questa bellissima esperienza Guarda, c'è un detenuto che è stato trasferito a Monza tramite la figlia mi ha comunicato che ha già mandato le lettere per sollecitare altri detenuti in altre carceri a partecipare all'iniziativa di fatto alla redazione del carcere del Bassone sono arrivate delle lettere con delle ricette per poter partecipare e diventare redatori della nostra edizione prossima, futura, che non si sa bene quando riusciremo a farla adesso Però ovviamente è in programma questo Arianna racconta molto innanzitutto della validità di questo progetto che tu con tanta ostinazione hai voluto proporre e hai portato avanti ottenendo dei risultati non voglio dire inaspettati perché sicuramente insomma si poteva entra a vedere un percorso così soddisfacente ma forse per certi aspetti un pochino di sorpresa l'hai avuta anche tu vedendo quello che accadeva? Guarda, non c'era niente di scontato all'inizio perché mi hanno detto che nelle carceri i detenuti partecipano per qualche settimana e poi si stancano e fanno altro io ho dei detenuti che da due anni stanno facendo questo lavoro e lo stanno facendo con grande consapevolezza e coscienza e se all'inizio c'era molto diffidenza da parte anche degli operatori all'interno hanno capito che invece il progetto ha una grande validità e ti dirò di più che dopo la puntata che abbiamo fatto a dicembre con il numero speciale c'è arrivata la comunicazione dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che coordina le carceri in tutta Italia per poter inserire l'iniziativa tra i progetti che vogliono portare avanti nelle carceri per cui con il PRAP che è l'ufficio regionale e quindi con il loro provveditore Pietro Buffa abbiamo avviato questa iniziativa e attraverso il TAMTAM stiamo coinvolgendo il maggior numero di carceri possibili Arianna voglio aprire e chiudere invece una parentesi con te perché la tua grande esperienza all'interno del carcere prima appunto ovviamente dell'inizio dell'emergenza può averti dato una sensazione un'intuizione su come si possa vivere invece là dentro questo periodo così particolare che cosa vuoi dire? Allora mi hanno insegnato una cosa che con questa quarantena noi siamo chiusi in casa e abbiamo le chiavi per uscire ma ciò nonostante non lo possiamo fare ed è la stessa cosa che provano loro loro invece non hanno la libertà ma non hanno neanche le chiavi per poter uscire quindi questo è un messaggio davvero breve ma che in poche parole ci trasmette davvero la sensazione di cosa significhi passare del tempo in quella dimensione quindi a maggior ragione quanto sia stato prezioso questo progetto e questa possibilità senti l'ultima curiosità visto che ovviamente tu avrai scartabellato e analizzato tutte queste ricette e sono tutte eccezionali anche con un'impaginazione delle immagini molto belle ce n'è una che vuoi assolutamente consigliare così poi finita la puntata si va sulla pagina Facebook a cercarla e magari domani si prepara vi prometto che la pubblico questa sera è una ricetta degli arancini con lo zafferano e il cioccolato quindi una ricetta golosa che può anche essere insomma un modo di condivisione all'interno delle nostre case perché c'è bisogno di un raggio di sole gli arancini insomma sono anche così e tra l'altro un'altra bella cosa è che mi pare vi farebbe piacere magari per chi dovesse realizzare qualche ricetta visto che siete social e c'è una pagina Facebook che magari facesse una foto e la postasse per condividerla è così? grazie del suggerimento sì è quello che chiediamo di poter realizzare un piatto di quelli che possono trovare all'interno del ricettario e quindi scattare una foto e mandarmela via messenger che provvediamo immediatamente a pubblicarla bene Arianna senti sai benissimo che come sempre io sono assolutamente con te e con tutti voi in questo progetto che ho adorato dal primo momento e spero davvero di avervi di nuovo qui di persona perché tutta questa situazione si concluda positivamente e queste ricette insomma le si possa raccontare qui in studio quindi grazie sono dolce evasioni certo naturalmente grazie ad Arianna Augustoni per essere stata con noi prima di andare brevemente in pubblicità ve lo ricordo di nuovo questo cambiamento nell'appuntamento con la nostra rubrica di benessere mi alleno in salotto perché come ho detto da lunedì 4 maggio cambiano gli orari quindi la mattina lo potrete seguire alle 7 mentre nel pomeriggio continuerà l'appuntamento al solito orario ovvero alle 18 quindi prendetene nota la nostra rubrica mi alleno in salotto da lunedì 4 maggio sarà alle 7 del mattino e alle 18 del pomeriggio come sempre ci fermiamo per pochissimo poi siamo di nuovo insieme grazie a tutti Grazie a tutti.